Mare Nostrum, questo è il titolo del gioco sul mare presentato in conferenza stampa questa mattina a Pescara dalle sezioni locali del WWF Abruzzo. Si tratta di un gioco di percorso adatto a tutte le età. I partecipanti guidati dal tabellone partono da quattro diverse postazioni e cercano di raggiungere per primi la casella arrivo. Durante il viaggio conoscono alcune meraviglie del mare e ottengono suggerimenti sui comportamenti corretti da seguire. Nicoletta Di Francesco, delegato WWF Pescara Chieti. In sintesi un'attività ludica allo scopo di? Allo scopo di incentivare la curiosità a conoscere il mare per conservarlo, preservarlo perché è una risorsa indispensabile alla nostra vita sia per quanto riguarda l'influenza sul clima sia per quanto riguarda la biodiversità in tutte le sue forme. Naturalmente Mare Nostrum insensolato però. Certo, Mare Nostrum una volta era considerato mare in nostro possesso, le dominazioni romane sappiamo tutti. Noi sappiamo che il mare Mediterraneo innanzitutto è un mare dove si affacciano tre continenti, Asia, Africa e Europa. Però Mare Nostrum adesso dobbiamo considerarlo come mare da proteggere che dovrebbe sviluppare la nostra responsabilità nei suoi confronti. Il messaggio che si vuole diffondere è proteggere il mare Mediterraneo e garantire i servizi ecosistemici che generano tra risorse e attività un valore annuo di 450 miliardi di dollari. Uno dei mari economicamente più importanti al mondo. Andrea Natale, coordinatore Oasi WWF. Occasione quanto mai importante per affrontare il problema legato alle biodiversità. Sì, purtroppo sono le stesse da diversi anni, non c'è un'inversione di tendenza, anzi continuano purtroppo ad aumentare i problemi. A questi ultimamente si sono legati quelli legati ai cambiamenti climatici, quindi alla tropicalizzazione del mare con l'arrivo di specie esotiche. La proposta nell'immediato quale può essere? La proposta nell'immediato è ovviamente investire e bloccare e cercare di migliorare sia il discorso legato alla depurazione delle acque, nonostante le bandiere blu ci sono tratti in cui gli interventi sono necessari, lo vediamo anche dagli indicatori biologici. Se vogliamo continuare a essere una regione turistica dovremmo puntare su questo, anche valorizzando la biodiversità che non abbiamo solo sulle montagne ma anche sulla costa.